A temi concitati nella mattinata di oggi a Morbegno, intorno alle 8, quando in Via Stelvio, nel tratto iniziale della cittadina, un uomo di 55 anni, in evidente stato confusionale, dopo essere sceso dalla propria automobile, una Fiat Punto, ha cominciato ad urlare chiedendo aiuto ai presenti. Non indossava alcun paio di scarpe, era evidentemente impaurito e chiedeva aiuto perché temeva per la propria vita. Sosteneva che qualcuno lo stesse aspettando alla rotatoria del tartano per ucciderlo, ci hanno raccontato i testimoni. L'uomo, aggiungiamo noi, dinnanzi al quale ci siamo trovati per puro caso, di certo non era una persona offensiva e non ha tentato di aggredire nessuno dei presenti, ma, ripetiamo, era in evidente stato di forte panico. A chi ha tentato pazientemente di calmarlo, rassicurandolo nell'attesa che giungessero i soccorsi, ha chiesto di contattare la questura perché si sentiva minacciato. Di lì a poco sono giunte sul posto due auto dei carabinieri ed un'autoambulanza. Dopo qualche minuto l'uomo, che sembrerebbe non essere originario della zona ma del Cremonese, si è lasciato convincere ed è salito sul mezzo di soccorso, lasciandosi poi trasportare in direzione dell'ospedale di Sondrio, dove è tutta ora sotto osservazione. Ci auguriamo di cuore che, quanto accaduto nella mattinata di oggi, rimanga per lui solamente un brutto ricordo.